e direi che iniziamo bene sto giro a trapani, porca troia, porca troia ah ragazzi sono arrivato a trapani devo dire che top cioè non male il viaggio è stato un po' turbolento ma quello può succedere qua c'era un po' di nebbia diciamo ma ora sta uscendo il sole a torino pioveva ed era una merda a milano pure e beh che dire un canone l'abbiamo già mangiato e beh buono buono ora sono venuto da posare le robe mi vedo con i ragazzotti let's go vai madonna c'era nooo per la mano se diviene bello vai vai sali in verticale si va bene si oh yeah bella giornata ragazzi abbiamo saltato abbiamo riso abbiamo scherzato ero fuori forma ginocchio ma ormai messo sempre peggio non so più che pesci prendere però poi una volta scaldati ci siamo abbiamo fatto ho spiegato tutti i trick miei e niente a tanti non tutti i trick miei le mie stronzate è stata una bella una bella giornata adesso sto andando a mangiare le persi di vista non mi rispondono più vabbè meglio così mi vado a mangiare la pasta alla trapanese siamo sulla punta di trapani devo dire che se venivo di giorno era molto bello ma di notte non si capisce un cazzo però è sempre una bella esperienza ritraiamo la bellezza di questo posto la semplicità talmente semplice giorno 2 mi sono svegliato ho dormito 10 ore perso il pullman ma lo devo ripagare cazzo però vabbè non c'è problema non c'è problema sono cose che succedono ora si fa una bella colazione siamo a palermo devo dire che oggi è una giornata del cazzo è tutto bagnato ma sono contento perché così almeno arrivo lì e non mi costringono a saltare io mi faccio due salti solo in palestra che sono della statua e niente adesso sono a palermo e via adesso stiamo facendo un giro della città proprio due ore per prendere il treno per andare a mangiare vedere un po' il centro storico e chissà se ce la faccio credo di sì che ti faccio il video vai sì sì brava vai tu ok ok stasera si mangia pizza ragazzi che hanno un certo limite allora ci sono 6